La proposta di legge di modifica statutaria approvata in seconda lettura con 24 voti favorevoli. L'Aula dice sì all'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e alla creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Il progetto Polis di Libera Toscana si è giudicato il bando finanziato con i risparmi dei rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri durante il lockdown. L'Aula dice sì alla modifica dello statuto. Due sospensioni hanno caratterizzato il dibattito piuttosto acceso in Aula sulla seconda lettura della proposta di legge di modifica statuaria che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Alla fine l'Aula ha approvato la riforma con 24 voti a favore di PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia e Italia Viva alla consigliere Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza, una delle modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi, ad esempio, ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta a ciascun consigliere. Al contrario, si privilegiano invece questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori FIMER, della LAICA, dell'ortofrutticola di Marradi, della GKN, tante crisi aziendali. E oggi noi mettiamo in scena, in quest'aula, uno spettacolo che io non esito a definire squalido ed irrispettoso nei confronti dei Toscani. Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, del PD, non ha partecipato al voto. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto, perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi, ribadisco questo, lo faccio non soltanto per questo profilo, ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto, così come voluta dal presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale, con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento, deve avere un senso anche oggi. E siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. E allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento, quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso. Fermo restando che reputo assolutamente incongruo un ufficio di Presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in Aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della Presidenza dell'Aula. Ma è successo un qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo di vedere, tanto per fare chiarezza, perché ho letto di agenzie che parlano di centrodestra diviso. È vero, i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa. La notizia è che la modifica dello Statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo Statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose. Che lo Statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze. Per esempio l'allargamento dell'ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio, come ho detto, non se ne parla. perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di Presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in aula e scopriamo che Italia Viva, che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il Presidente della Commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto, a quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Ecco perché abbiamo deciso di votare, contraria anche noi. La cosa surreale è che il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri aveva parlato di combattere i costi della politica, anche laddove i costi della politica erano l'assunzione di personale, di ragazzi e di ragazze, che avrebbero avuto un posto di lavoro, è votato a favore. Questo nuovo Statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di Presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Elisa Montemagni, capogruppo della Lega, è intervenuta per condividere la posizione espressa da Torselli sull'ampliamento dell'ufficio di Presidenza e le perplessità sul testo definitivo della norma. Proprio per questa ragione ha concluso il suo intervento annunciando la non partecipazione al voto. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione. Sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto. Anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare. Ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo. Magari chiederemo anche l'UMI sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va in maggioranza tra di loro. Marco Stella di Forza Italia si è detto convinto della proposta di modifica dello Statuto. Come Forza Italia rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'Ufficio di Presidenza, una maggior rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima lo abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare perché comunque è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Prendiamo atto che il centrodestra non esiste più, è spappolato, ha commentato il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Le nuove norme sono quelle che erano già state approvate ad ottobre in prima lettura. Il Presidente Gianni potrà disporre, se vorrà, di un sottosegretario da scegliere tra i consiglieri regionali, quindi senza aumenti di nuove indennità perché questi non ci saranno. L'Ufficio di Presidenza avrà due componenti in più, come è stato sottolineato dalla minoranza, come maggiore anche garanzia di presenza e del funzionamento equilibrato del Consiglio regionale. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni. Ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra, non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Come detto, contraria alla modifica della legge statuaria, anche Italia Viva. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. Noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa. Abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi. Gran parte dei partiti cambiare la loro opinione. Chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa in un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Avevamo chiesto di fermarsi, avevamo chiesto di fare le cose tutte insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine. Non è mai successo nella storia della regione toscana con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione. Come modificare la Costituzione a livello nazionale. Presentato in Consiglio il progetto Polis di Libera Toscana Il progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio regionale toscano Educazione alla legalità istituito con i fondi più di 70.000 euro derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown. Un bando straordinario che testimonia la forte presa di coscienza dei consiglieri toscani sull'importanza di diffondere la cultura della legalità fra i giovani. Un'iniziativa sostenuta con forza dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeu. Non appena sono stato insediato e avevamo delle risorse derivanti dai risparmi della politica in quel caso i mancati rimborsi nel periodo del lockdown decidere di utilizzare quelle risorse per eventi sociali o per iniziative simili. Alla fine abbiamo scelto di mettere in campo un'iniziativa che è quella del sostegno a progettualità legate alla legalità. Perché lo abbiamo fatto? Per tre ordini di motivi. Il primo per mandare un messaggio forte all'esterno. La Toscana non è terra di mafia ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiosi e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti specialmente i ragazzi più giovani ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese e che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte è un messaggio di formazione e di informazione perché la progettualità che libera che poi si è giudicato il bando e ci ha presentato è esattamente questa andare nelle scuole, parlare con le ragazze con i ragazzi trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza senza distinzioni di colore politico perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti non deve avere una connotazione politica e ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché se è accaduto qualcosa sui nostri territori non accada mai più. Grazie a questi fondi Libera Toscana e l'Associazione delle Discipline potranno organizzare numerose iniziative di educazione alla legalità nelle scuole di tutta la regione e cinque campi sul nostro territorio. A questi si aggiungeranno gite di formazione sulla proprietà di Suvignano confiscata alla mafia e data in gestione alla regione che sarà teatro anche di tre dei cinque campi estivi. C'è una strategia di contrasto alle mafie immediata, diretta è l'azione della magistratura delle forze dell'ordine degli organi di informazione le inchieste, riferimenti i collegamenti il disegno complessivo e sapete benissimo che in Toscana purtroppo assistiamo non mi viene nemmeno da definire una recrudescenza dell'infiltrazione mafiosa perché ormai è un fenomeno in costante evoluzione e in costante aumento. C'è poi però una strategia a lungo termine che gioca sulla dimensione educativa sulla valenza di tutta una serie di iniziative con cui le associazioni incontrano le studentesse e gli studenti la formazione delle insegnanti e degli insegnanti insomma una dinamica formativa che fra l'altro si ricorda bene che come ricordava ieri il Presidente nazionale di Libera Donciotti intervenendo alla città metropolitana bisogna parlare veramente di una città educativa di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani e questa prospettiva dell'educazione culturale del rifiuto della cultura mafiosa della cultura del privilegio della cultura anche della corruzione politica di un senso di legalità sempre più vago ecco queste sono tutte realtà fondamentali per costruire appunto futuro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti